Ci siamo o sta per arrivare questo concerto, insomma è un modo non solo per sostenere ovviamente l'autismo ma anche per tornare ad ascoltare dell'ottima musica. Sì, 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 noi ormai da qualche anno che come associazione cerchiamo di abbinare la musica e comunque l'intrattenimento, l'arte, il teatro ai temi dell'autismo e della disabilità. Crediamo che sia un percorso importante perché comunque per noi è l'occasione da una parte di recuperare speriamo risorse, la città ha sempre reagito bene ai nostri spettacoli ma anche per riportare al centro dell'attenzione i temi delle persone autistiche, dei più fragili che in questo periodo nonostante non siano successe fortunatamente nel nostro territorio cose eclatanti però hanno sofferto molto la mancanza di attività e ora che speriamo tutti di ripartire noi vorremmo riprendere i contatti con la città e con le istituzioni, con il territorio per portare avanti i nostri temi che non sono scomparsi ma sono rimasti un po' in naftalina. Ecco, dal punto di vista artistico quale sarà lo spettacolo che sarà offerto agli aretini per sostenere appunto il mondo dell'autismo? Sarà uno spettacolo un po' nello stile di Spazio Seme, quindi sarà un concerto dieci sono i musicisti che saranno presenti insieme a me nella serata musicisti che vanno dalla musica classica alla musica jazz sicché toccheremo un po' molti generi della cultura italiana anche una parte di cultura popolare avremo Luca Rossi che è un esponente proprio della Campania con le tamorre, i tamburi a cornice quindi faremo un viaggio nella cultura italiana da brani della Sicilia con Rosa Balestrieri alla Puglia fino ad arrivare alla Toscana e poi i classici degli anni 60, anni 70 quindi Morricone, Domenico Modugno, Umberto Bindi però nello stile di Spazio Seme avremo anche dei momenti dedicati alla danza un piccolo momento dedicato alla danza con Leonardo Lambruschini, il nostro socio, Consuelo Paceco che viene dal Cile e Francesco Botti che farà una narrazione legata proprio ai temi dell'autismo però ecco, invito tutti a venire perché non è semplicemente uno spettacolo e quindi una bella serata di musica straordinaria ma è anche un modo per far parte della comunità in maniera attiva non solo con l'autismo, questo avviene per tante cose però la città è sempre reagito però è sempre bello ricordarcelo e quindi essere presenti in tanti in quel momento grazie a tutti alle 21.30 di sabato 21 i biglietti sono disponibili nei soliti circuiti di Ticket One e quindi non ci sono problemi ma anche la sera stessa naturalmente grazie 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 grazie